Ciao, benvenuto all'aggiornamento ciclico con l'indicatore Volt Time sull'indice DAX. Non è che ci sia un gran che da dire, totalmente in laterale, continua la superfase di lateralità del DAX. Mi sono anche preso la briga di andare a vedere, non è un vero, non possiamo considerare la statistica, però dal punto di vista visivo sono andato un po' indietro a vedere, bene o male, queste fasi di congestione, quanto durano prima di un movimento, quella attuale siamo già a un numero di candele, partiamo da qua che è arrivato a 23 candele, la precedente che è stata quella di febbraio è durata prima della partenza, mettiamoci qua, è durata 26 candele, quindi 26 giorni, questa nel mese di novembre è durata 24 giorni, cambia questa molto meno, ovviamente è durata 12 giorni, andiamo un po' indietro, tanto faccio un'idea di quanto potrebbe eventualmente durare, qui lasciamo stare, se vogliamo essere onesti questa è durata la bellezza di 73 giorni di totale lateralità, quindi fuori scala rispetto a quelle che stiamo vedendo in questo momento, in questo caso è durata 18 barre, quindi 18 giorni, qui è durata 15 giorni, però poi è ritornata dove era, quindi possiamo considerare questa come fase di lateralità completa, 41, in questo caso è durata 25 barre, devo farmi fare poi questo conteggio a chi mi gestisce queste cose, quindi avere un algoritmo che mi fa i calcoli da solo, 18 barre in questo caso, che anno siamo? 2018. 2018. Diciamo che così buttata giù in un conteggio che non ha senso di esistere, però da 20 a 30 barre possiamo metterla giù, come lateralità prima di un movimento a parte del mercato, alla luce di questo che cosa ci dovremmo aspettare per i prossimi giorni? Andiamo a vedere subito, prima una veloce presentazione, io sono Paolo Pesino, sono un 3 della 2007, se è la prima volta che guardo il mio video e ti do il benvenuto sul mio canale YouTube, mi puoi trovare sul sito tradingpertutti.com, ti invito a visitare il sito, unito al canale Telegram gratuito, ogni giorno riceverai due analisi ciclica multiday gratuite, e anche un'analisi ciclica intraday e livelli volumetrici su DAX, NASDAQ, Dow Jones e Forex, almeno due volte alla settimana. I servizi che metto a disposizione sono un servizio di segnali sulle valute, il servizio che ho riaperto l'otto di questo mese su richiesta degli utenti, un servizio di segnali intraday sugli indici, in realtà devo cambiare la locandina, mi scordo sempre perché il gold non c'è, c'è anche un servizio di analisi intraday su tutti gli indici, sia da un punto di vista ciclo che da un punto di vista volumetrico, vado anche a cambiare la locandina, io lo farò questa sera, l'indicatore Volten, che è quello che mi vedi utilizzare nelle mie analisi, un indicatore proprietario, serve per identificare con mesi e giorni, ora in anticipo, quello che il mercato farà, quindi noi sapremo quando e dove il mercato inizierà un suo trend, quindi inizierà un'inversione di mercato, e poi il non plus ultra, un corso di analisi ciclica e volumetrica, per poter sapere quando, dove e in quel momento che cosa sta accadendo sul mercato, con 8 ore di formazione base, quindi un corso base di trading, 40 ore di formazione di analisi ciclica, 9 ore di formazione di analisi volumetrica, un anno intero di licenza Voltime incluso, due coaching individuali direttamente con me, che consiglio di sfruttare alla fine della visione di tutto il corso, e un anno di canale Telegram Voltime, che poi chiaramente può essere rinnovato con il noleggio dell'indicatore. Andiamo a vedere i risultati, allora innanzitutto, il mese di maggio, il DAX è passato in abbondante profitto, dopo essere stato in perdita di quasi 150, 135, sembra più 139, adesso ti farò vedere il trade che abbiamo fatto quest'oggi, Nasdaq è fermo a 22 punti di perdita, Dow Jones 370 punti, ricordo sempre, che il Dow Jones è un terzo del DAX, quindi da un punto di vista, punti fa un po', è brutto vederlo, ma da un punto di vista perdita è un terzo rispetto a un normale movimento di DAX e Nasdaq, perché le site da utilizzare sul Dow Jones devono sempre essere o la metà o un terzo di quelle del DAX, io utilizzo un terzo. Forex, soltanto due operazioni, sono riuscito a portare al mercato dall'8 omaggio che ho aperto il servizio, tutti e due in profitto e 51 pips perché ho preso due cross, no, uno era una coppia, non mi ricordo più, sì, non mi ricordo neanche che cosa ho tradato, e comunque valute che muovono 30 pips al giorno, di conseguenza abbiamo preso quasi l'intero movimento giornaliero. Non vado alla ricerca di operazioni a tutti i costi, ci devono essere tutti i puntini sulle i, perché il andare fuori dalle regole si è visto marzo che cosa è accaduto, quindi un mese che sta piano piano tornando in positivo, ci sta che i mesi a volte non siano perfetti, aprile abbiamo fatto 700 punti, tanto per intenderci di profitto. Questo è il trade della giornata di oggi, questa mattina sul Presto ho generato l'analisi, in orario più o meno picco ciclico sono andato a tradare il livello di resistenza, siamo entrati short, 50 punti complessivi, chiuso più o meno a metà trade, in realtà speravo arrivasse fino a questo livello. Quando però ho visto che si è venuto a formare, parlo di volumi, una condizione tale, tra l'altro sulla media mobile ciclica e sul livello di supporto primario che avevo, mi ha aspirato poco, però mi ha preferito chiudere, io ho fatto anche bene perché col senno di poi il mercato è sceso di poco o niente, è sceso ancora di 17 punti e poi è ritornato sui massi. Questo ci fa capire che è un mercato intradabile sostanzialmente, il multiday non ha la logica di esistere, da un punto di vista ciclico analizzando da un 36 mesi fino a un 40 giorni siamo ancora in una fase realtista, perché noi vediamo che abbiamo una spinta che dal punto di vista ciclico, è anche importante perché quando abbiamo una sinusoide così ampia, questa è un'analisi partita a giugno del 2013, quindi siamo quasi a dieci anni interi di storico analizzato, quando abbiamo una componente del genere, dal punto di vista ciclico abbiamo più cicli, ormai lo dico sempre, se la prima volta che mi guardi e non conosci l'analisi ciclica, questa è una spiegazione importante, quando abbiamo una sinusoide che ha dei movimenti molto ampi, vuol dire che abbiamo una sincronia tra cicli che sono nella stessa fase, l'indicatore visto così può sembrare un po' fuorviante, nel senso che l'indicatore non considera il prezzo, nel senso che l'indicatore si distribuisce per tutto il grafico, quindi io devo, per dire se vado dietro nel passato, ci ritroviamo in questa situazione qua, se vado ad allargare il grafico, quindi a distribuire il grafico per tutto il prezzo, per tutto lo spazio disponibile sul monitor, vedi che si va ad agganciare anche dal punto di vista dell'ampiezza, ovvio che, e man mano che il prezzo si muove, la piattaforma cosa fa? Va a spostarlo e a regolarlo all'interno del monitor, della grandezza del monitor, l'indicatore essendo fisso, a volte può sembrare molto lontano dal prezzo, andrebbe sempre visto in questa maniera, però io preferisco fare vedere più grafico e quindi risulta un prezzo più ristretto rispetto all'ampiezza dell'indicatore, con il programmatore comunque stiamo già al lavoro per cercare anche di ottimizzare da un punto di vista visivo questo concetto e far sì che eventualmente l'indicatore si vada a regolare in funzione dell'ampiezza del mercato, però così mi piace anche poco perché sarebbe prendere in giro le persone, perché vorrebbe dire avere un indicatore che segue perfettamente il prezzo e che non è vero, perché il mio indicatore è quello che vede quello che è accaduto, quindi quello che si vede è ciò che veramente l'indicatore ha previsto e sarebbe una presa per i fondelli, voler vendere qualcosa in realtà non è così, infatti attenzione a tutti e soprattutto con gli oscillatori che fanno ridere i polli, che fanno un repaint della madonna, che sembrano sempre perfetti attaccati al prezzo, sono tutte palle, sono tutti prodotti che vanno dopo a sistemarsi per far sì che risulti perfetto, infatti poi cosa succede? succede che quegli indicatori finiscono esattamente con la candela in corso, quindi non proiettano niente nel futuro. Noi che cosa ci dobbiamo aspettare? Innanzitutto si inizia a intravedere sempre di più questa fase un po' di lateralità della sinusoide, che è la composizione dei cicli appunto che dicevo vanno da un 36 mesi a un 40 giorni, perché si sta venendo a creare questo? Perché una fase di lateralità crea una contrazione della durata del periodo ciclico, una fase molto volatile e crea normalmente una dilatazione di ciò. Quindi avendo noi una restrizione, una contrazione, abbiamo cicli che iniziano ad essere sempre meno in sincronia e quindi vanno a creare questa sorta di fase di lateralità. Vediamo come, se arriveremo al 27 di maggio, se arriveremo ancora in questa condizione o se, così come sembrerebbe il mercato voglia fare, andremo a fare i nuovi massimi storici, che ricordo sono posizionati a 400 punti, dico male, da qua, quindi praticamente a 1-2 giorni di movimento in tendenza. Noi chiaramente seguiremo quello che ci dirà l'analisi ciclica, vado a cambiare il colore di questa trendline, che ovviamente è una trendline da 40 giorni, ma non ha più valore, è un punto di vista di confermio di un ciclo da 40 giorni, però ha comunque un valore, perché è una trendline basata, calcolata, tracciata, su una componente ciclica, quindi ha un valore statistico, sta tenendo molto bene il prezzo. Per noi sarà importante vedere quando verrà rotta questa trendline di circa 40 giorni, che al momento io lascio così, comunque è ancora confermata, e sarà da vedere se il mercato salirà e andrà a romperla dopo, o seppure la romperà già adesso, e qui metterà un po' di punti interrogativi, perché andrà sostanzialmente ad anticipare quello che è un massimo di un ciclo di 80 giorni, che a questo punto è l'indicatore, vedi che io credo che non abbia ancora neanche confermato come minimo di ciclo di 80 giorni. Morale della favola, si può fare qualcosa? No. Domandiamo alla finestra? Sì. Quanto sta durando l'analisi? 10 minuti. Non c'è nulla che sia nulla da poter fare in multi-day e anche in intra-day. In intra-day per chi lavora con l'analisi ciclica, chiaramente ha una marcia in più, perché sa prima che cosa dovrà cercare, e quindi ha un filtro importante che non sarà raggiunto un livello entro short o long perché lo ha rotto, perché lo ha toccato, perché così si fanno solo dei grandissimi errori. Noi dal punto di vista ciclico abbiamo questo vantaggio. Se non usi l'analisi ciclica, io ti suggerisco però di aspettare per i long intra-day, di ritornare su livelli, come possono essere un livello di 15.748, e shortare intra-day chiaramente solo su massimi daily, quindi vai a vederti il giornaliero e decidi se vale la pena prendere un'operatività oppure noi. Non tradare livelli come ti spiegano nelle slide del giorno dopo, perché prendi solo mazzate. Anzi, ti invito ad unirti alla mia community di chi lavora con l'analisi ciclica, l'analisi volumetrica, perché veramente farei parte di quei pochi traders che sanno molto in anticipo che cosa farà il mercato. Con questo è tutto. Se ti è piaciuta l'analisi ti chiedo di mettere un like e ci vediamo con l'analisi che farò tra poco, che sarà su... Aspetta che l'ho cancellato perché sono un genio, così lo vediamo subito insieme, che sarà al su... lunedì sul gold, ah, il gold è buono. A tra poco, ciao ciao!